E' una delle proposte del contratto di governo andare in pensione prima con la cosiddetta quota 100, ovvero lasciando il lavoro in virtù di un quoziente pari alla somma degli anni di età e di quella dei contributi versati, ma secondo l'inchiesta del Corriere della Sera con assegni più contenuti. In sostanza, stando al progetto, si potrebbe raggiungere la pensione sommando 64 anni di età e 36 di contributi adeguati alla speranza di vita, con un massimo di due anni di contributi figurativi, ovvero quelli relativi ai periodi di inattività, fatti salvi però maternità e servizio militare o civile che potranno essere conteggiati. Per le lavoratrici si punta poi di nuovo sull'opzione donna, ovvero un meccanismo che permetterebbe di lasciare il lavoro a circa 58 anni e 35 di contributi, però con il regime contributivo esclusivo. Per le pensioni anticipate la quota 41 anni e mezzo di impiego dovrebbe salvaguardare e agevolare senza penalizzazioni tutti i lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni. Se si ipotizza dunque la possibilità di andare in pensione prima rispetto a quanto previsto oggi, si conterebbe però su pensioni più contenute. Ad esempio spiega l'inchiesta che oggi a 20 anni potrebbe tagliare il traguardo della pensione con un anticipo di 5 anni e mezzo, ma si ritroverebbe con 210 euro messi di in meno, pari al 16% dell'assegno. Una decurtazione che invece dovrebbe diminuire all'aumentare dell'età, ma che sarebbe comunque presente in quasi tutte le simulazioni.